Sento un po' più... questa è la prima volta che vengono i miei genitori a vedermi a una gara internazionale quindi più che magari gli avversari che sono il favorito forse mi dà un po' più pressione che ci sono i miei che vengono a vedermi cosa che appunto non sono mai venuti perché ho vari problemi e migliaia altre robe quindi insomma voglio fare bene soprattutto per i miei E soprattutto anche per il pubblico, è una bella per il Boato, no? Certo, poi vedendo il tipo che hanno fatto gli ungheresi a Budapest cioè se qui è la stessa cosa è veramente il massimo poi con tanto pubblico c'è qualcuno che magari si spaventa ma qualcuno anche che gli dà la carica e io penso di essere uno di quelli quindi spero ci sia pieno sempre perché insomma fa molto piacere